Avrei preferito ovviamente farne a meno di essere insomma alla ribalta della cronaca o perlomeno esserci per motivi meno deprimenti. La lettera è arrivata a fine luglio mi sembra, è stata recapitata insomma a mio padre, era indirizzata a lui, quando ancora io non avevo ufficializzato la mia candidatura. Quindi è stato secondo me un modo a parte meschino vile di farmi desistere credo perché nella lettera sono tutti elementi che dovevano far sì che mio padre potesse farmi desistere. Quello che ecco io mi dico è che il fatto che tu puoi pensare, quindi questo viene da una cultura maschilista, patriarcale, retrograda e diciamo quasi medievale, che però comunque ancora permea parte della società anche della mia comunità pergolese purtroppo, pensare che ecco il mio padre possa avere la proprietà anche intellettuale sulla figlia, quindi il capofamiglia ancora può dire la sua sulla figlia che è insomma cinquantenne. Quindi ecco qua siamo proprio fuori strada anche perché se io sono la persona che sono comunque determinata, che già ci ha messo la faccia nella tornata elettorale del mio comune un anno fa, se adesso comunque ho di nuovo deciso di mettermi in gioco per poter rappresentare tutte le aree interne, quindi dare una voce alle nostre aree in regione, sicuramente sono la persona che sono grazie all'educazione di mio padre e di mia madre. Per cui la denuncia che ho fatto poi, anche perché si sono succeduti altri fatti, poi c'è stata anche delle voci che hanno screditato proprio la mia condotta morale e quindi lì ovviamente era forse più mio marito che in qualche modo poteva essere anche la vittima indiretta. E' deciso di denunciare pubblicamente questi tre episodi, uno più grave dell'altro, non tanto per riabilitare la mia dignità, io non ho bisogno, la gente mi conosce. Il fatto che un anno fa, nel maggio 2019, ho preso quasi 600 voti significa che la gente mi apprezza e riconosce alcuni valori che incarno, che ho sempre incarnato. La mia è una storia di coerenza, la mia vita. Per cui l'ho voluto fare proprio per innanzitutto riabilitare in qualche modo i miei genitori, che si sono veramente sentiti mortificati per mio marito, ma soprattutto ho voluto denunciare anche le battute sessiste per i miei figli, perché io che sono poi mamma di tre figli maschi ho veramente il dovere morale di insegnare ai miei figli, e questo è un modo per farlo, il rispetto di genere, il rispetto soprattutto nei confronti delle donne. Io mi auguro che questa vicenda innanzitutto possa cercare di far ragionare, riflettere sulla gravità dell'utilizzo di certi anche strumenti come Facebook, questa libertà totale nello scrivere, queste parole che non hanno più valore, invece per me le parole hanno valore. L'impegno magari anche mio nel momento in cui dovessi diventare consigliere regionale in questo senso, quindi una legge che possa, come dicevo prima, tutelare maggiormente, quindi delle pene più severe anche per chi scrive cose veramente indecenti e indicibili.